Dov'è qua, dopo di che, beh il piano per arrivare a gold, giocare, io ai livelli ipotetico sono silver 4 con 40 LP in 25 game, io credo che già a 70 si inizia a parlare di promo eh, ma proprio a mani basse, anche perchè poi abbiamo shivana top, a oro, con però un tetto massimo di 80 game, avremo goss, xos, ignite, asci le rotazioni, non lo servemo il flash, quindi non ho nulla, e non la potremo utilizzare ovviamente giù una, quindi niente, smite, abbiamo l'obbligo di fare le scarpe come primo item, e l'altro obbligo è che il secondo oggetto deve essere per forza o dentro di nascere robot, quindi anche shivana è interessante, dopo shivana c'è a mumu top, 100 game, e lì sarà veramente da, ovviamente c'hanno tutte le regole per gli item, shivana che può andare sia lì che ap, ha 24 oggetti, ovviamente chiusi, con a mumu nasce anche la regola per gli oggetti intermedi, quindi posso prendere 28 oggetti, ma da considerare anche gli intermedi, cos'è un oggetto intermedio? sono tutti questi oggetti qua, che sono interessanti, ma sono anche viable da soli, esempio, la blighting jewel, che dà 15% di magic pen, ne metto qua, intanto non mi prego un cazzo, oppure l'exec alternator, o la brumble vest, se si dovesse parlare dei tank, è l'oggetto che più, oh, sto parlando però, è l'oggetto più iconico della brumble vest, lo prendete e riuscite a tirare le cure, o anche l'oblivion orb, se io ho il morello nomicon, ma non l'oblivion orb, vuol dire che io devo chiudere necessariamente il morello nomicon, rushandolo, e se nell'inventario ho uno di quei oggetti lì, ho due game in meno, il game comunque non viene, viene conteggiato un altro game vuoto, perché ho buildato quell'item, e ne passa, ma ci andiamo? quanti HP ha? 544 ma io devo iniziare anche a pocare, no? il spike di Samira è il 3, tanta roba, vero? è difficile, sì, ma in realtà è anche semplice, oh, oh, basta, beccati anche il true damage e il cheap shot, che non era immobilizzato, questo per LOL, ma poi dovete vedere su Pokémon, su Warlords, che cazzo di... ne aspetto la V, no, c'è cazzo su Pokémon, la shiny lock, quindi giocare solamente Pokémon shiny, una delle regole è aver vinto con tutti i Pokémon che troviamo in shiny, una solo run, e lì uno dice, vabbè, io se dovessi trovare quindi un Pokémon shiny, di cui non ho fatto la cosa, per metterlo in team, devo giocare quello che è una run, una single run, per portarlo a giocare in squadra, cioè vado a malati esempio, eh, attenzione, però poi ci sono anche di quelle sfide assurde anche lì Fortnite, porto Fortnite, uno dice, vabbè, monoarma, ed è la prima che vedo, se io mi dovessi sbeccare ogni game una pistoletta, diventerai matto, in 100 game devo vincerne 10, tipo Isaac ad obiettivi, non ho mai giocato Isaac, anche su Mario Kart, pure lì, bello, bello rivoltante, su Mario Kart devo doppiare dalla 150 e 200 l'ultimo, almeno una volta per ogni competizione, quindi io delle quattro gare una volta devo vedere quantomeno l'ultimo, proprio per tutto il giro buono perfetto, quindi saranno tosse, sono scarsi, guardate qua, non ho mana, lo cazzo spinge qua, no, 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 usate la V, no, porca di via, no, 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 ma come il shutdown, fa un po' quello che vuole, bello, vabbè, siamo fottuti in a wave, e scarpe, pensavo mobility, vado di mobility infatti, perché così posso fare questo e questo e andare immediatamente top, top è un lutto con la lane, sì, poi su lol, fai aprire il graph, tra l'altro no, con bonus, cioè il drive, tu entri nel drive e trovi tutto, challenge di lol, ad esempio, c'ho anche la random plot, dove gioco sempre o random, tutto a caso, come viene, ma andiamo, andiamo, tutto randomizzato, Oh, ci abbiamo fatta, ahahahah, slow out, buono, buono, poi abbiamo la only tier 4 e 5 2 gold, Quindi io posso utilizzare solamente Champion che stanno Fanno cagare Nel loro ruoli Viene in mente Rumble Jungle E tier 5 Posso giocare Rumble Jungle Mai nerfato Rumble E non lo posso usare Astro Carlo La lurco Dottore Poi passo eh Carlo Serata dovrei riuscire a passare Altro grande stream Prima era Carlo Attenzione un altro bel Varity Ma lui proprio Ha una live che è di una cura Magna Cali Io credo che ci sia passato Ci abbia passato ore Come vanno i game O li stompo O li perdo La mente non la vedo bene Ma riusciamo no? Muore eh E vabbè Era un po' scontato Abbiamo fatto i primi due game In cui non c'avevamo un team Poi appena abbiamo il team Noi ingraniamo Facciamo un po' quello che vogliamo Ma ci ci può andare Vai 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 Vediamo se riusciamo a dar fastidio qua Vabbè almeno Almeno respira Vado via che se no gli prendo l'exp E basta Insomma molto Nel chill E la cosa Everfrost Arrivo top Come avete visto Io raga Quando devo Se lo fa Dovrei riuscire a farlo In qua Peccato Bello 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 Stiamo vincendo da soli Stiamo vincendo da soli Stiamo vincendo da soli Noi ci siamo Ci vado Se coprono lei Ho bisogno di un tuo ausilio E tra quattro Tre Due Andiamo Che bello Che bello Qua abbiamo Va vai 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 Grosso Grosso Sì Sì Cazzo Sentite come suona Lino di mameli Mi ha dato Dello zingaro Dello zingaro Vai Vai Cazzo Vai Posso Il mio dovere L'abbiamo fatto Quello dello zingaro Ci siamo beccati Dei rom Ci ha dato questo Ma è schifo Bene E Sebbene niente Bene Ma ha sbagliato Tutto Affanco Arrivo Talon fa 1v9 Bel champion Bel champion Talon Guardami negli occhi È un bel champion Andiamo in Mid Bot Si arrangia No A 0-2 Ma Ma controllare Eila Eeeh Eeeh Niente Niente Stavo Stavo Followando Anche xerat 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 The king Mid Mid Grosso Sto mid laner Vedete Isle Grosso Qua Qua Lascio Quell'altro Ma Lascio solo Per i tassani Eh ci vado Io eh Ma secco Proprio la ulti Eh Ho la ulti secco Eh Secco ci vado Se io punto qua Loro Lui non mi vede Così non la game phone Nessun problema Lui non mi vede neanche arrivare Guarda che bello Guarda che bello Guarda che bello Pum Aaaaa Ed è kill Per il nostro AD carry Easy Aldo ma sei morto Mi dispiace Mio signore Non ho più paura Everfrost A te 101 A coso Abbiamo fatto il refresh qua A mie spese Ma non me ne frega niente L'importante è vincere Guarda Talon come è incazzato Oh Abbiamo andare top Vado top Io vado top Io vado top Io vado io top Dovete giocare così Cazzo support No Eh Gioco Non lo so Nami So incolato al support Eh si Gioco Lulu Premo Eh Bravo 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 Coglione Dove dai vanno Eh Tanto non ci vai Legendary Ma in giro ammazza chi vuole Ma 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 qua è Non abbiamo preso però le risorse che dovevamo prendere Perché Qua voto un'altra Se il fulto Ok L'ultim set Voglio Devar questa Non ho nulla Ma lo voglio fare Attenzione Livelliamo Arrivo 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 Boom E ancora Boom Interessante Eh Interessante Resti lì Resti lì E ci lasci le penne Mi ha ammazzato Non so Mi ha ammazzato Anche Kale È tiltata FF15 Sì